Ciao ragazze e ragazzi, sono Govinda e questo è True Colors, il nuovo videogioco di Life is Strange. Il video precedente è stato molto bello, se non l'avete ancora visto andatelo a guardare, ve lo lascio qui sotto in descrizione perché sto per fare uno spoiler. Uno, due, tre. Lo spoiler è, fa anche rima, che il fratello di Alex è morto. E non sappiamo cosa è successo veramente. Sicuramente scopritelo insieme a me in questo nuovo video su Isola delle Rose TV. Iniziamo, anzi, continuiamo. Entriamo in Life is Strange. Vai! Il video la scorsa volta era finito proprio qui. Siamo nel secondo capitolo. Il video precedente vi ho fatto vedere e ho giocato con voi il primo capitolo. Alex? Adesso c'è Steph che sta per entrare. Uno, due, tre. Un, due, tre. Stella, vai! Ragazzi, iscrivetevi, eh, se amate Life is Strange. Grande, ti amo, Steph. Sei la mia preferita. Anche la protagonista mi piace. Stai ok? Sarò bene, per niente, per niente. Eh, ti capisco. Cioè tu sei venuta in questa città. Non è il tuo lavoro di mantenere la città. Ha ragione, Steph è la migliore. C'è anche una radiofonica. Come sapete io ho fatto il radiofonico. È messo, ma... Vuoi venire? Eh, la invita dentro. Certo. Ti voglio bene, Steph. Ti voglio bene, Steph. Tu sei la più bella per me. Ti voglio bene, Steph. Tu sei la più bella cos'lo sai. È quel cappellino bello che tedi così. Ti voglio bene, Steph. Sai suonare la chitarra con me. Scusate se io sto un po' cantando. Però la situazione è molto tragica. Una volta era un regalo. Eh, questo qui, eravamo arrivati proprio in questo. Cosa scriviamo, ragazzi? Cosa scegliamo? Una volta o era un regalo? Scrivetelo nei commenti, vai. Vediamo cosa sceglierò io. Allora, io sceglierò... Scrivetelo nei commenti, vi prego, eh. Fate pausa, scrivetelo nei commenti. Ecco, l'avete scritto. E adesso io sceglierò. Era un regalo. Sceglierò. Era un regalo. Da Gabe. Eh, lo sapevo. Cioè, l'abbiamo visto la scorsa volta. Qui c'è un'attenzione, secondo me, un po'... Cioè, lo posso dire? Gabe ha cercato di sceglierò le wheelie in un'altra storia per farmi riuscire. Non funzionò. Anche se si è sceglierò. Cioè, sto Gabe era proprio un mito, eh. Cioè, il fratello maggiore, bravissimo, simpatico, l'aiutava, amato da tutta la cittadina. Ha avuto anche lui un passato difficile, ma è riuscito ad andare avanti. Non come lei, che è quella minore, un po' incasinata. Gabe ha cercato di fare l'art per Ethan. Cioè, si stanno ricordando tutto quello che ha fatto lui. È comunque un personaggio grandissimo. Mi dispiace, mi ricorda un po' The Last of Us 2. Non so se l'avete visto quel gameplay, guardatelo. Anche questo è in descrizione. Anzi, nelle schede. E non puoi parlare tutte le volte che parlo io, ragazzina. Brunetta. Cosa? Cosa hai visto? Cosa non puoi? Fossball Champion. Era un ragazzo d'oro. Il ragazzo da sposare. Sta piangendo. Oddio, guardate le lacrime. Scusate. Solo per un minuto. Sì, no problemi. Come avete visto nel video. Cioè, lei può guardare i sentimenti e anche i pensieri. Se tu utilizzi i tuoi poteri, secondo me no. Perché io sto guardando Buffy e Willow. E quindi sentiamo la sua sadness. Entriamo. Vai. Perché non va? Non mi dico che mi devo svegliare? Entriamo. Entriamo nel sadness. Mi piace la capigliatura. Mi ricorda un po' Annelix. Sapete quel YouTube canale? Canale YouTube, scusate. Di Annelix. È una YouTuber italiana. Di Verona, se non sbaglio. Bellissima, bravissima, simpaticissima. Tuttoissima. Cioè. Certo. Eh, vediamo. Ok, quelli sono i ricordi. Scusate, se andiamo nella bottiglia. Cioè, questi qui sono tutti i ricordi che ogni oggetto ha su di lei. Cioè, su Steph. Cioè, su Steph. Un altro game. Se io vincere, tu devi restare. Se vincere, io coprivo il ticket. Ok. Tu hai scoperto 50 euro. Secondo me è nel letto, ragazzi. No, non è nel letto. Vediamo se c'è qualcos'altro. Qui c'è una nota. Ok, cioè, lei voleva andare a Denver. Quindi andiamo da Steph, andiamo a parlare con Steph. Cioè, lei stava... Aiuta, aiuta. È tuo fratello, comunque. È l'unica che non sta piangendo. Musica, biliardino, videogioco o drink? E come la possiamo aiutare nel modo migliore, ragazzi? Videogioco, biliardino, musica o drink? Ma, eh... Facciamo... No, drink no, non bisogna bere adesso. Facciamo un po' di musica, dai. Si metterà a piangere più forte. Ok, quindi vuoi sicuramente bere. Dove provare qualcos'altro. E allora... Biliardino? Biliardino, dai. Non ci crede nemmeno lei. Cosa vuoi fare un gioco? Dai. Avevo un presentimento... No, diciamo che avevo un presentimento. Non dobbiamo mentire. Ho solo... Avevo un sentimento. Sì? Beh, sei certo. Non credo che sia una buona giornata. Eh, vabbè, cioè, tu cosa vuoi? Non mi dire che vuoi bere. Allora, io non ti faccio bere. No, 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 no. Ah, ok, sta avvenendo. Brava, ecco che arriva. Vai, vieni, gioca con me. Cosa, cosa? Usa L2, R1 sullo schermo per girare i giocatori. Oddio. Oddio. Grande Govinda. Uno. Grande Govinda. Govindoski, bravo. Bravo, 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 bravo. Come faccio? Sì. 2-0. Mi dispiace. Sono troppo bravo. Sono troppo bravo. Sono troppo bravo. Sono troppo bravo. È troppo bravo. Esso tre. Grande. Io ero bravissimo, ero bravissimo, ero bravissimo. Esso quattro. E vai, vai, vai. Va, 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 va. 5-0. Mi dispiace, Steph. Ora si deprime ancora di più. Forse ho sbagliato ragazzi Dovevo farla vincere Sì il pubblico mi adora È bello giocare con te Sì il pubblico mi adora È bello giocare con te Dai che bello Ma quanto te ama Vuole vincere giochiamo Non ti preoccupare Ti fasco io No Oddio Vai 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 Sì vai Ti voglio bene Ti voglio bene Ho Schi Ho Schi Dovindoski 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 Are you trying to distract me No Of course not Vai Vai If you're wondering Vai Grande Govindoski Grande 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 Vai 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 Govindoski Vai Govindoski Vai Govindoski E' il più brave Oski, Bravo Oski, Govinda Oski, Govinda Oski Ecco Grande 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 sei grande 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 tu Govinda tu sei grande no, 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 no no, no E so tre che so quattro Iaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiii Iaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiii Scusate, io sto parlando malissimo Non so perché questo gioco mi è eccita un casino cioè mi sento molto eccitato. Vai non ti preoccupare non ti preoccupas E so cinque ho vinto di nuovo Grande Eh ma io so bravo Beh si sono guardate negli occhi benissimo Mamma mia mi sono innamorato pure io ragazzi Allora vai Oddio Vai 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 E so uno e so due e so tre Cosa? Sì Ok gliel'ha detto che gli piacciono le ragazze Cioè le ha detto che è lesbica Vai 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 Non mi fare prendere Non mi fare arrabbiare E so due Mamma mia devo vincere stavolta No non ci credo Non voglio vincere Non voglio perdere Dai non è giusto Non è giusto Cosa? Cosa le ha chiesto? Nooo Ragazzi non voglio morire No No non voglio perdere Dai Non voglio perdere Vai Mi fanno male le mani Dai Addiai Vai E so cinque Ho vinto Ce l'ho fatta Cioè anche a lei piacciono le donne Grazie Alex E' molto felice Che hai parlato con me E' stato molto divertente Ovviamente Ora si baciano Cosa stai pensando? Cosa è successo? E' uscita dai suoi sentimenti adesso Cosa stai guardando? Ma fuori comunque c'era la Tu guardi quel cosa di là Me lo devi dire comunque Mi devi dire cos'è quella cosa di là Quindi Cosa stai facendo adesso? Cosa vuoi dire? Quella s***a con Mac E' un gran bugiardo Mi servono più informazioni Dai Mi servono più informazioni Non è sicuro di cosa è Max Steele Sua storia Non aggiunga Sì 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 Anche io Ma davvero Già mi conosci E già mi ami Che bella porta Porta che bella porta Ciao bella Ci vediamo dopo Un bacino Ciao amore Ci vediamo dopo Bello Ok Facciamo un po' di cose stupide Eh Questa è interessante Molto interessante La guarda Puliamola dai Stiamo pulando Stiamo pulendo i vestiti Lavando i vestiti Ah così lei si sente meglio Allora se vai lì dove va scusa Vai di sopra Andiamo di sopra che non ci siamo andati mai Shushu Ve lo ricordate? Ah questo è il posto dove sono andati prima Che andassero diciamo Nella cosa Nella cava Allora vediamo Nella miniera In che senso? Allora siediti Guarda Guarda Siediti dai sediamoci Guardiamo un attimino il cielo Certo questa views Scusate ma prima non c'era la neve? Un altro momento zen Anch'io guarda Anch'io E invece è sempre peggio Il fratello Il fratello Il fratello più Più grande del mondo Cioè Nemmeno io Eh vabbè La vita vai per i vivi No non sei da sola Ecco questa canzone Che mi demonetizzano In continuazione il video Eh ragazzi eh Bella comunque Cioè questa serie Sarà tutta demonetizzata Ho capito comunque Perché i grandi youtuber Molti youtuber Non la stanno facendo Ecco qui c'è un'altra Guardate No birds today Eh vabbè Così La vita è così ragazzi A volte Cos'è? Il barbecue Gabe was such a dad In effetti sì Gabe really loved this place Allora questa Questa qui ragazzi Non era una bandiera strana L'ho vista nel video precedente Cioè è nella sua camera È una bandiera Del Colorado Della Entriamo qui dai Entriamo con la X You could stay here too I wouldn't try to stop you Yeah good I'll be the only trans person In a town with a population Of like four That sounds like a blast for me Thanks for not Trying to stop me I'm sorry Izzy It's not you And it's not the band I fucking love that shit But I need to try this It's just Time for something new I knew it I knew this would happen eventually Fucking See you around Stuff Ma see you around Time for something new I know how that feels Cioè lei se ne doveva andare via Cioè Steph se ne voleva andare via Ok ho capito I bet Gabe could even make golf fun Beh sto Gabe è Una Come si dice Un grande Cioè tutto quel che dice va bene Cioè tutto quel che fa lui È tutto oro Cioè a quanto pare Come ho detto Gabe Mi sta incominciando a rompere un po' eh Vabbè esci 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 Usciamo da qui Non c'è più niente Porto usciamo Esci Qui sono venuto ma non c'è niente Vabbè controlliamo allora quel pianerottolo Che bella inquadratura Mamma mia so già come Proprio bello Andiamo da Shushu Lettera d'accompagnamento Borsone Guarda Mamma mia proprio una settimanella Pulisci pulisci Dai tempo di pulire dai Non fare come me Cioè non fare come Govinda Io ad esempio lascio le cose sempre sporche E rimango sporco per una settimana Piatti puliti Guardiamoli Sì bravo Hai visto Visto che noi stiamo bene Vediamo questo trofeo Videogiocolo Scopa Che scopa Ah ok E adesso non so Il fumetto Verissimo Verissimo Beh adesso allora scendiamo già Andiamo a parlare con i I scopellitti Ecco Come chiamo Snowboard Como Andiamone sul como Il ragazzino del como Allora Como Vestiti Ah e posso cambiare Vestiti Mi piace No 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 Oh questo mi piace Questo mi piace Molto carino Dai Sì sì Mi piace Mi piace tantissimo Allora vediamo le fotografie Le abbiamo viste prima E questa è la lettera d'accompagnamento Eh sì E a scale siamo salite là sopra Dai scendiamo giù ragazzi Perché secondo me C'è qualcosa là sotto Che possiamo fare Questa inquadratura Lì guardate Lì c'è una cosa per pulire Che silenzio Comunque questa casa Cioè tu esci di casa Ma per uscire Devi passare dal bar Cioè peggio Di una casa in cui stavo io Tanto tempo fa Quando facevo l'università Avevo una casa Sotto casa mia C'era un bar E io il venerdì sentivo Tutti questi Questi rumori Della gente Che cantava Che ballava Faceva così Guarda Oh no è orrendo Gabe e Ethan Che carino Questo l'ha fatto il bambinello Whisky Lo spero anch'io Perché se tu guardi Questa cosa Ti metti La multa Cioè Gli è la data C'è Ok Ha fatto una multa Di cintura Stop non rispettato Velocità X Velocità così A 40 Ha fatto più Velocità A 55 Ed l'agente Trasgressore interrogato Al Black Hunter Si crede molto furbo L'agente Firmatario Giura Depone Dichiara Che la persona Non mi dà Su questa multa Ha commesso Le succidente Succitate Frazioni Trasgressione Ok Questo è il coso Allora guardiamo Il ritratto Beh anche io Cioè sto ragazzo Veramente Beh allora andiamo Un attimino Lassopra Sì sì Andiamo Lassopra E andiamo Upstairs E andiamo A prendere Qualcosa Che possiamo Mettere lì Ma cosa Cos'è La bottiglia Di whisky Un altro whisky No Dai Un altro whisky No Il bicchierino Certe volte un po' Si blocca Devo essere sincero Non so se lo notate Il video precedente Si è anche bloccato A un certo punto L'ho lasciato Nel gameplay Eh Cosa Cosa gli possiamo mettere Il bigliardino Il borsone Ah Questa gli mettiamo Giradischi No La scopa La scopa Allora Allora Il videogioco Eh Questo non so ragazzi Cosa gli possiamo mettere Il fumetto L'abbiamo visto prima Giradischi La scultura Il bicchiere Questo nemmeno Dai Non può essere Cosa Cosa possiamo mettere Ragazzi Aiutatemi Aiutatemi voi Se mi volete Bene Il borsone Ah la foto La foto La foto Prendi Che bello Bene Possiamo andare Scendiamo là sotto Esci Beh la foto È bellissima Cioè avere una foto Così insieme Siamo di nuovo giù E quando Sì Raccogli dai Oh no Eh sì È colpa di Mac Grazie Dai grazie I appreciate It That was Pretty rough Allora È difficile Immagino Una buona Versione Di Il Tuo No Non Non Buona Versione Cosa Tutti Stiamo Stiamo Stando 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 Lo best Stando Stando Andare Via Metti Quella cosa Sul Tavolo Metti Metti Quella Cosa Devi mettere La cosa Sul tavolo Non andare Via Ti prego Lo capisco Devo provarci Comunque Devo provarci Comunque Troppe cose Mi dici tu Va bene Finalmente mi hai dato la chiave Cioè di casa mia Se è gratis Io ci rimango Per tutta la vita È l'affitto Per tutto il tempo Che voglio È l'affitto No no È l'affitto Ma dai Questo non mi è mai successo In vita mia Ma andate pure L'occhiolino Ragazzi Chi è Chi mi sta chiamando Steph Vuoi venire da me No ok Non so cosa dire Mi dispiace così tanto Alex Aveva dovuto Non so cosa dire È stato terribile Non avessi dovuto Vederlo E so che è un momento difficile Ma possiamo parlare So che ti sto chiedendo Il mondo Ma davvero Bisogno di parlare Con te Ah tutti mi hanno scritto Charlotte Mi dispiace tanto Grazie ancora Mi dispiace tanto Grazie per aver salvato La vita a Ethan Non so cosa fare Senza di lui A quel Charlotte mi vuole bene Dacchi Carissima Alex È stato davvero piacere Conoscere Stadera Spero che Aveva Possa essere una casa Possa essere una casa Accogliente per te Con affetto Raina al McAllister Grazie Sei molto dolce Steph Scusa se Scusa se me ne sono andata Con la corsa di prima Non vedo riconoscere meglio Alla terza sera Idem Ah Alex Sono Steph Mi dispiace tanto Volevo molto bene a Gabe Posso solo immaginare Cosa stai passando Chiamami se ti serve qualcosa Chiamiamola Dai Bello Chiamiamola Mi dispiace così tanto Alex Sappi dire che Sappi dire Sappi mi dire Se posso aiutare In qualche modo Questa è una risposta Un po' scema Jed Buongiorno Alex Hai visto i miei messaggi Oggi terrò una piccola cerimonia Per Gabe alle 9 Se ti va di venire Ma non sentirti obbligato Grazie Jed Ti sento subito Mi fa piacere Ti prego Non andare lì Devo mettere una cosa Sul tavolo Non è giusto Sono andato a prenderla Fermati Ecco Fermati No Ecco Metteva una cosa Subito sul tavolo Subito Prima che Prima Allora Metti foto Che bello Che amore Che passione Che piccolo gattino Che suona Mamma mia Che dolcezza No Non guardiamo Abbiamo guardato Cos'è questa cosa qui Bicchiere Guarda Gabe Avrebbe appreciato Tavare una birra Nella stessa Beh anche io Allora Col piedi birra Vediamoci una birra Vediamo se è possibile Quindi prendila Dai Io me la prenderei Una bella birrozza Incisione E non lo so Arem Sarà Teschio Usa Usiamo Usiamo Qui bello Three sheet of wine Ragazzi Cos'è come si utilizza Ascolta canzone Think of children Blame Fearic Che bello Mind the damn porridge Gin lines transfer Vabbè abbiamo visto Vabbè abbiamo visto Esci Abbiamo lasciato Quella canzone Questa canzone Mi ricorda Nene Adesso dobbiamo andare Da Charlotte Quello chi è? Credo fosse Ethan Guardate La gente è tutta triste Vediamo Charlotte Vediamo Sto preparando Una nuova avventura Iscrivetemi in privato Se volete partecipare Sì Cosa ci toccherà fare? Mandami un messaggio Per scoprirlo Io ci sto Per qualsiasi cosa Allora Devo andare Vai al dispensiario Vai da Steph Al negozio di dischi Dov'è il dispensiario Ragazzi? Da Charlotte E si può vedere Diario Ricordi Eh Indaga nel negozio Dei fiori Vai al dispensiario Ragazzi Cos'è il dispensiario? Qualcuno mi dica Cosa Cos'è il dispensiario? Guarda C'è loro stanno facendo La veglia E quindi naturalmente La moto La marca La barca da pesca Non saprei Allora Io non saprei Dov'è il dispensiario Dobbiamo andare Al dispensiario E non so Vediamo cosa dice lui Non c'è nulla cosa Non c'è nulla cosa Non posso fare Per Ethan Sì Qui sono molto E' molto bello Eh sì Andiamo al parco Dai Andiamo Facciamoci un parco Ciao Incisioni C'è un altro incisione Nell'albero Si Oh guardate C'è Ethan Albero scolpito Andiamo all'albero scolpito Non credo Questa stessa È un culto pagano Ma Non posso Rulare Allora Tutti Ne hanno Stavolta Dicendo Mi Eh Vero Eh Se sei così Giovane Puoi reagire Veramente male Vediamo cosa dice lui Vuoi parlare Tutto bene Vuoi parlare No Lo sa No Stai malissimo Ho ascoltato i tuoi pensieri Bello mio Ok Definitivamente Non è mio Non è mio Sì Ma non mi dire che No Non c'è bisogno Vediamo se c'è Allora Questo l'abbiamo controllato Cosa dice la signorina qui Non dice niente Vediamo se troviamo Un Beh sì Peccato Sta facendo Jogging Sì ciao ragazzi Non sto più a parlare Jogging Io lo penso tutti i giorni Io lo penso tutti i giorni Della mia vita La bottiglia E qui sono tutti drogati Tutti Nemmeno io Kayak Kayaking Would be super Relaxing Ciao Vabbè dai ragazzi Abbiamo visto quello Andiamo al dispensiario Che non so dove sia Ragazzi Al cielo Cioè Come lo chiamiamo In inglese Il dispensiario Non ho idea Ah qui c'è un altro Ah andiamo da lui Dai Sì Parla Parliamo con lui Parliamo con questo di qua Dai Cosa Parliamo dai Ehi Pike Ehi È molto alto lui Tutto ok Sono Sono stata meglio Sono stata meglio Sì certo Vabbè non è una risposta Cattiva Vabbè non è una risposta cattiva Lo saprò Lo saprò Lo sarò presto Mi piace Mi piace Mi piace quel maglioncino Lo voglio Io per sempre ma qui cos'è questo qui cartello guarda campana a vento e questo è interessante perché vi ricordo che vi ricordo non lo sapete io qualche tempo fa ho fatto questa cosa cioè ho fatto tramite un macchinario scientifico importantissimo la misurazione dell'aura e non vi dico che colore era non era né blu né giallo né rosso né arancione né viola era un colore speciale che non vi posso dare era una era iridiscente sapete cosa significa iridiscente allora dove cacchio si trova sto dispensiario ho tempo entriamo beh tanto tempo non ne abbiamo perché dobbiamo andare dalla nostra amica sentite la musica è bellissimo lei è un'acconciatura stupenda fumetto non c'è bisogno quaderno guarda ok sono indietro arrivo fra tre cinque minuti dieci o magari quindici ah vediamo cosa dice dai 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 vai non sopporto questa cosa vai cioè tu devi essere a distanza di sicurezza per fare sta cosa vai ma come si può riuscire a me dopo tutto ciò che abbiamo avuto insieme è difficile da perdere la musica ma magari potrei trovare qualcosa qui qui per chiudere ma fumetti nemmeno io c'è possiamo darle qualcosa per farlo stare meglio eh facciamolo bussa bussa che bella cosa mi vuoi dare cosa mi vuoi dare qualcosa di divertente 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 come costumi scuole questo tipo di cosa sì ma designato solo per lui in Theynor ottima idea riusciamo a farlo ottima idea gravius lord of the underworld star writer the undead cravius or storm writer the undead the undead storm writer looks like a worthy opponent he gets my vote all right then oh i gotta get back in there there's some stuff in my comp book be cool if you could check it out help me make some calls i'll see what i can do hey uh haven listeners that was phone tap with their new single elephant in the room we've got a sweet block oh looks like steph wants me to do more than just make some decisions she wants me to play a bard Alex vatti i personaggi il bardo nome razza mezzelfo classe bard abilità campo di distorsione serena curativa livello 1 punti vita 10 come hai incontrato Theynor alto Alexandra Alexandra campo di distorsione serenata curativa serenata curativa questo potrebbe essere molto sarebbe molto romantico storia divertente storia erotica eroica storia eroica spero proprio di sì dai daglielo andiamo da l'amica il fumetto che fumetto è questo qui leggi è ora di fare visita a un vecchio amico o forse dovrei dire un vecchio nemico non dovrei essere qui a Mazzamostri non me ne andrò finché non avrò disposto e non te ne andrei mai no dov'è la spada celeste e va bene te lo dirò la spada è stata vista per l'ultima volta nella città di Karnis Theynor Karnis ma è infestata del Ragnar Mannari Mannari mamma mia Trello Troll tutto coloro che cercano quella spada perdono qualcosa di caro Theynor ma il mio destino è quello di salvare il regno con una spada celeste sconosciuto per fortuna non dovrei cercarla da solo Theynor I'll win beh dovremo trovare qualcosa per lui vediamo se possiamo prendere dai guarda questo l'avevo visto prima batteria non cioccarla vabbè andiamo via vediamo se possiamo andare da lei guarda vero lo penso anche io vabbè ragazzo dai cioè il fumetto i fumetti li avevamo guardati quei fumetti là magari li diamo al signore si l'avevamo già guardato vabbè eh questo 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 cosa è strano guarda guarda ok usciamo dai ci sarà un altro caricamento si oh guardate questo ariete si e dobbiamo andare questo cos'è volantino andiamo vero ma io lo dico comunque bellissimo lo spero anch'io per loro e allora dobbiamo andare al negozio di fiori ah il negozio di fiori è là rilassati rilassati cosa stai facendo tu le foto così oh ma che cavolo stai facendo benissimo dai siamo pronti per entrare al negozio di fiori se sentite una voce un po' diversa sapete ma dov'è la dispensary ma dov'è la dispensary orilla aiutati allora qual'è quella dispensary prima di andare lì dov'è la dispensary perché io non ho capito è qui dove si trova il suo dispensario ci dobbiamo trovare il dispensario è dove si trova non saprei ragazzi ah dispensario è qua dov'è qui il dispensario entriamo ragazzi andiamo prima al dispensario chi è ma certo che ci siamo incontrati all'inizio ah l'unico ah questa è Diane non è comunque Diane non è quella che abbiamo visto all'inizio ci assomiglia tantissimo sembra la sorella vediamo cosa c'è qui ma qui si parla di cose belle di cose che si mancano e te fanno sentire bene basta devo smettere di parlare con questo accento romano che tra l'altro non sono nemmeno un romano io io vengo dall'isola delle rose questa è la vecchia rica fidanzata sto bene cerco di tenermi occupata cerco di tenermi occupata certo ma cosa guardi Rita non si trova là certo fagli vedere che stai soffrendo anche tu ha bisogno di tempo perché quello lì è sottolineato ragazzi ha bisogno di tempo è molto brutto lo so lo capisco ma Gabe è andato via è morto una bella canna un affidavito da Typhon se lo signo mi accordo non prezziare le charge in exchange per un pagamento un grande che cosa l'osca? quanti? quanti? quindi non filmarla no 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 non lo so non lo so non lo so mamma mia ragazzi cosa farete voi scrivetevelo nei commenti se siete arrivati fino a questo momento ditemi cosa fate avete accettato i soldi o la rifiutate io farò ragazzi io rifiuto l'offerta e vado avanti ha ragione ha ragione bravo è giusto si se si 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 Ha ragione Sì Lo penso anch'io Che bello Un librido composto prevalentemente di sativa Per bilanciare la concentrazione Dell'allergia Mamma mia che bello Allora vediamo cosa dice Ivan Spree colorato Ciao a tutti Come già saprete Una persona ne è molto vicina e deceduta Gli ultimi giorni sono stati molto difficili per me Ethan Ma stiamo facendo del nostro meglio Per tenerci su di morale Molta morale Molti di voi mi hanno contattato E hanno scritto delle belle parole E ve ne sono grata Mi avete aiutato tantissimo E non vi ringrazierò mai abbastanza Per il vostro supporto Cercherò di aprire il negozio per qualche ora Ogni pomeriggio Ma è probabile che gli orari saranno abbastanza regolari Durante le prossime settimane Mi scuso per l'inconveniente E vi ringrazio in anticipo per la pazienza La vostra vicina ed erborista Charlotte Ah così le chiamo in italiano Erboriste Cosa è sta cosa? Un'altra cosa viene dall'Africa? Oh mio Dio ma fa paura Guardate che denti Bellissimi Perfetti Ma in questo gioco hanno tutti Dei sorrisi tiratissimi Non so se Lo penso anch'io 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 Il cactus Certo perché il cactus È una cosa Che viene dal Scalpello Allora ragazzi Volevo dire Non Non scandalizzatevi Perché qui siamo In gli Stati Uniti E in futuro Forse in Italia La situazione sarà anche così E in Italia E in Italia Man These things better do the trick I'm averaging like Three hours a night Pro tip Insomnia doesn't usually come from nowhere And THC is way better at treating it When you're also tackling the underlying cause Any idea What's keeping you up? These bougie dispensaries Are going to put all the creepy dudes Named Gene Out of business Eh sì Eh comunque sì ragazzi Qui Charlotte parla Guarda andiamo Dai andiamo via Vediamo cosa c'è qui Costruita nel 1919 La casa di cura di quel fere Operato in un successo Fino alla chiusura del 1927 Va bene Va bene ragazzi Dai possiamo Ah Ricordiamo questa cosa Sì Va bene usciamo dai Eh però Non la saluti nemmeno La ragazza Cioè Charlotte Andiamo 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 al flavor shop Se non sbaglio il flavor shop si trova qua Negozio di fiori Dai entriamo I caricamenti Voi non li vedete Ma sono Scusate I caricamenti sono abbastanza lunghi Questa è la signora che abbracciava È la madre Di chi è? La madre di Qualcuno Sto malissimo Sto morendo dal caldo Mi sto adattando No ma lei comunque Sa qualcosa Lei sa qualcosa Ma è un po' cinese Lei secondo me C'è asiatica No? Sì andiamo a vedere cosa dice Nemmeno io Dai 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 Vai 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 Entriamo nel suo cervello Quindi Ok adesso possiamo Sì vediamo Lo Questo 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 Ah forse lei sta diventando vecchietta Quindi si dimentica le cose Forse Guarda Perché sei andata là vicino? C'è qualcosa C'è qualcosa Ah c'è qualcosa qui La foto Ah ah Riley non può trovarlo Non può saperlo Ragazzi Ma chi è Riley? Vediamo se c'è qualcos'altro qui Qui non c'è niente L'abbiamo visto prima Eh lei soffre di qualche malattia ragazzi Secondo me Perché si è avvicinata a qui? Guarda Questo l'abbiamo visto prima Se non sbaglio E se si sente a pezzi Quindi c'è qualcosa Quello l'abbiamo controllato Quello l'abbiamo controllato C'è qualcos'altro? Vediamo se c'è qualcos'altro Io non vedo niente ragazzi Vogliamo ricontrollare là Lei ha perso la memoria Ragazzi Quindi niente Vediamo se possiamo andare via qui C'è qualcosa qui? No Ah Closed All'alzheimer ragazzi e ragazzi Benissimo Dai L'abbiamo capito L'abbiamo visto prima Cioè noi non possiamo andare là Cioè scusa Perché mi fa guardare là? Guardiamo dai Non dice niente L'abbiamo visto prima Allora io me ne voglio andare qui Dai basta Cioè abbiamo guardato tutto quello Il guardabile Cosa vuoi da me? Cosa devo controllare? Ah qui i fiori Il doctore ha detto che avevo più tempo Ma Tutto è diventato Tanto 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 Hai capito? Cosa Sì 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 Abbiamo capito Abbiamo capito Sta arrivando della nebbia Ma qui stiamo diventando a Silent Hill Welcome to Silent Hill Adesso arriva il mostro Quello tipo Che non riusciva a camminare Tipo le infermiere Vedremo tipo James Uscire da quella porta O ed entrare da quella porta Scusate E dire Maria Are you there? Maria O Mary I love you Mary Ah i fiori Fiori appassiti I fiori Non è solo che L'ho forgot Il doctore dice Che ho più tempo Ho più tempo Potevo farla parlare Non l'ho fatta parlare Vediamo cosa dice qua Aiuta Aiuta Aiutiamola Ripercorri i tuoi passi Chiedi a Riley Pensaci meglio Concentrati su qualcos'altro Cazzo Scusate ragazzi Ma cosa devo dire Qui Chiedi a Riley Pensaci meglio Concentrasi su qualcos'altro Ripercorri i tuoi passi Questa è una bellissima idea Che bello Che bello Ma lei è bravissima Sta piangendo pure lei Allora Ripercorri i tuoi passi Cosa Beh avrà fatto questa cosa Prima questo Primo Ok E qualcosa la distratta Forse qualcosa Secondo No Registro Cioè non mi dire che devo andare là Vediamo 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 Telefono Secondo Ci sta Grande Un foglietto Una foto Cosa può essere Telefono Non saprei qualcosa L'ha distratta Forse il terzo Io lo so Io lo so Che poi diceva Riley Non lo devo sapere per niente Quindi l'ordine secondo me Dovrebbe essere questo Quarto Leggi Urro dirigente Ok Lilies Che bello Oh il mistero Lo possiamo fare qui 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 Questo qui Lo possiamo fare forse Questo di qua Ultimo Beh questo sono io Quando avrò l'alzheimer Da vecchio Spero di no Perché è una brutta malattia Ragazzi Jed Novak Road 1940 Pagato Let Flower Banca Pettingelle Pettingelle Decorazione Concessa Jed Lucan Novak Road 940 Ricordiamocelo È brava come il fratello Comunque Jed Deve essere Hosting Un evento Mi chiedo Perché Vuole Lilies Sono tradizionalmente Per funerali Dio Non ricorda Meglio Non dirglielo Dil Risparmi Il dolore No ragazzi Secondo me Bisogna dirle Sì sì Dille Di Gabe Vai Sono Sono For Gabe's Wake Gabe's Wake Mamma mia Ora piange Mi dispiace Non è che adesso Ti devi andare E lo so La vita è così Non essere Gugliardica Non c'entra E lo so Mi dispiace Dai Non mi fa piangere pure a me Te lo dovevo dire La verità Cioè io non ho un Alex Mi dispiace Non ti preoccupare Dai 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 Ma perché vai via Cioè mi fa sentire male Dovevo per forza dirglielo Lo so che è una cosa sbagliata Ma io non ho una laurea in psicologia Vediamo se riesco a far funzionare qua Vai Non sopporto questa cosa Vai Hai fatto bene Sì Vabbè adesso ce possiamo andare quindi Posta Vediamo vediamo Contiene informazioni importanti Strada principale 13 Eh mi sa che non sono informazioni importanti Scusate ma questo qui posso anche guardarla Sì Questo è lo zerbino Che bello Che bel zerbino Perché Non ho capito Vabbè allora Possiamo uscire forse Questo l'abbiamo visto Mi piace Questo l'abbiamo fatto nel video precedente Dai possiamo uscire Esci E adesso che facciamo Cioè abbiamo fatto con lei Boo Quale ponte Certo se io avessi una mappa Vediamo cosa dice Jasmine SMS anche Charlotte Grazie mi dispiace tanto Correzza ancora Alex puoi fare un salto A dispensare quando vuoi Ho bisogno di un consiglio Certo Questo l'abbiamo visto prima Steph Eh io ho visto cosa hai fatto Per GV Grazie mille di niente Scommetto che a Ita Mi piacerà un sacco E quindi cosa dobbiamo fare Ragazzi Allora diciamo Andare al ponte Dobbiamo andare al ponte Vediamo Questo è il negozio di dischi Cos'è il negozio di dischi Vediamo se possiamo Parlare con lei Magari Possiamo prendere Questo GPR E poi portarla D'Itan Ok quindi niente ragazzi No non siamo venuti qui Per niente Andiamo a cercare Mac ragazzi Dai 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 Entriamo Andiamo Andiamo Ci sta Eh andiamo al ponte Dai vediamo Forse da questa parte Perché Dov'è sto ponte Ma qui c'è un Quale ponte Ah qui 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 Telefono Alex mi dispiace Per prima Ho apprezzato il tuo aiuto E solo che ero Un po' sconvolto Non devi scusarti È stato difficile Per tutti noi Questo è il ponte E lì E lì L'abbiamo trovato Vai vai Prendilo Vai Perché Eh sì Parla parla Mac Alex In inglese È giusto Devi dire la verità È sempre meglio Perché Mac 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 Come on He was my big brother I can't I can't E' molto difficile È molto difficile È molto difficile È molto difficile Ilemos di Per trovare la verità Guarda Vediamo se c'è qualcosa Al pet shop Questi qui stanno litigando Cos'è questa cosa? Ma? Murale Bello Bellissimo Sicuramente Questo murale È un murale che mi ricorda Quando sono andato in Lituania Acquirente Non saprei Non saprei Parla Fiori di campo No beginning Vediamo cosa abbiamo qui Allora Parla con Riley Della paura di Mac E dove si trova Riley? Riley Chi è Riley? Riley 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 No quella è Charlotte Dobbiamo trovare Riley E non mi ricordo che è Riley E non mi ricordo chi è Riley Ragazzo Ethan Dove posso trovare Riley ragazzi? Ma vediamo cosa c'è in questo molo Prima di tutto Siediti Ci sarà un altro momento zen Dobbiamo andare da Riley Ma non so dove trovarlo Andiamo a casa forse Guardiamoci Godiamoci Godiamoci questo momento Nel frattempo Iscrivetevi al canale Attivate la campanella Delle notifiche Nel frattempo Nemmeno io E il nostro obiettivo è proprio questo Adesso arriva un mostro che la prende E la fa andare sott'acqua Che bello Questo video verrà demonetizzato incredibilmente Beh adesso dobbiamo andare da Riley Non so dove è Riley Dov'è andare a casa? Perché Riley non è lì? Boh saliamo qua sopra Entriamo dai Riley non è il vecchio Giusto? Jed è il cosa? Pike è lui? Il è il... Lo sceriffo Jed è lui Parla E non so dove trovare Riley Ragazzi Devo trovare Riley E adesso appena la trovo Ve lo faccio vedere L'uccello Scusate ragazzi Dice l'uccello Dov'è l'uccello? Ah l'uccello Guarda Andiamo gliela a dire Sì sì dov'è Dove si trova? Dov'è la signora Quella che fa La 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 Andiamo 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 da lei Andiamo andiamo Parla Bello Hai visto sono stato utile So l'avevo detto Che devo andare da Riley Ah parliamo con Pike Che ne so io Dai vediamo qualcosa Mi devi dire lui Parla Sì Quindi dobbiamo andare Da Riley E da Riley Ah Riley dovrebbe essere Qua da qualche parte Quindi il Riley dovrebbe essere Nelle vicinanze Questo l'abbiamo controllato Vediamo sti due Qui cosa dicono Beh ha ragione Questa è Riley Forse Vediamo cosa dice La ragazza della panchina Ma scu... Ma scu... Acchio Acchio Chi è lei? Oh scusi Ah se ne va Scusi ma perché se ne va lei? Mmm cos'è questo? Lo possiamo controllare Volantino Qui sopra cosa c'è? Ci può andare? Ah bisogna per forza andare là Va bene E quindi non ho idea ragazzi Devo trovare Riley Bisogna andare Allora ragazzi Non potete capire Cosa è successo Il gioco si è bloccato Ed era tutto nero E sono stato qui mezz'ora A rigiocare il capitolo Ma non me lo faceva rigiocare Quindi non so ragazzi È stato veramente brutto Ma per fortuna Ce l'ho fatta Sono riuscita ad uscire E adesso devo andare Assolutamente Alla ricerca di Riley Che finalmente ho trovato Ragazzi e ragazzi Sì Vediamo Parla 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 Hey Riley Alex Hey Mack Mack Gabe Eleanor Devo andare E cosa gli devo dire? Mack Che bella Mac ha ignorato la chiamata di Gabe Mac sta dicendo la verità Mac ha ignorato la chiamata di Gabe Facciamo una domanda diretta Vabbè allora lo sai scusa Lo sai Si sta comportando in modo strano Ha un accento bellissimo Adoro e voglio una ragazza così Ragazze schiamate lo 0052 Se volete stare con me Mi ha chiesto Eh si Lo spero anche Cioè ho paura anch'io Però secondo me no Dio benedica le rosse Gabe e Eleanor Gabe Ah credevo fosse il tuo fidanzatino Mi fai facere che ci fosse per te No Fossi per te Dai Fossi per lui Dai Per lui Per lui Che mamma mia Ma sta guardando me ragazzi Sta guardando me Eh Eleanor dai Sì sì Ragazzi voglio dire una cosa Cioè essere felici Perché una persona che ami Sta andando all'università da qualche parte È una cosa bellissima Ma quante volte invece nelle nostre famiglie Quando diciamo che vogliamo andare in un posto Per andare a lavorare Andare a fare qualcosa Per Se siamo così giovani Vogliamo andare a studiare Ci mettono il bastone fra le ruote Quante volte Cioè Dovete imparare Per i vostri figli Quando guarderete questo video Quelli che guardano questo video Ricordate per i vostri figli Di essere felici Se loro vogliono fare qualcosa Nelle loro vite Se vogliono andare a studiare all'estero Se vogliono andare da qui Lì Gestra sinistra Di vita Ce n'è soltanto una E dobbiamo imparare Ad essere felici Delle felicità Delle persone che amiamo È una cosa importantissima Chiusa a parentesi Allora la cosa diciamo È molto dolce Se la caverà È molto dolce È molto dolce È la persona più semplice Che conosco Sì Sì Che hai lavorato con lei Nella città Ha significato Il mondo Sì A due di noi Devo andare Cioè E adesso Sì Perché non la guardi Mac Trying to skip town Is sketchy as shit I bet I could use that To stoke his fear Ah quindi adesso posso andare da lui Vediamo il telefono Cosa dice Silver dragon Grazie mille Per la spazienza dimostrata Negli ultimi giorni Vabbè Questa è la La cosa Sì Vediamo cosa è Steph Songride The hundred Questo non ha niente a che fare Con il tuo ultimo post Vero cavoli È solo che ci vuole Jesse Ok va bene Va bene Quindi adesso possiamo andare da lui Perché adesso possiamo fargli paura Quindi ritorniamo un attimino da lui Questo che sempre sta parlando Vi ricordate L'abbiamo visto qualche minuto fa Adesso ritorniamo al ponte Spero che non si sia Buttato giù dal ponte Cioè io rido Comunque volta gente lo fa E mi dispiace tantissimo E che devo fa? E che devo fa? Affronta Mac E ragazzi E ho già fatto tutto Cosa devo fare? Noi Oh no E cosa devo fare ragazzi? Forse devo andare da Riley? Vabbè ragazzi Adesso lo taglio Vi faccio vedere cosa succederà E no ragazzi Comunque lei non ha niente da fare Perché guardate Affronta Mac Basta Abbiamo fatto tutto Affrontiamo Mac Parla Sono pronta Tornerò più tardi Ragazzi Cosa devo fare? Tornerò più tardi Eh sì ragazzina Però se tu non mi dici Cosa devi fare Io credo di aver fatto tutto In questa town Quindi non so Adesso andiamo Andiamo dal poliziotto Dai facciamoci un bel giro Ragazzi e ragazzi Andiamo da Eleanor Andiamo da Eleanor Dove si trova Qui Qui no Qui se non sbaglio Proviamo da lei Dai Ok poi non è Eleanor Del child lord Vabbè parla Hey I just saw Ethan He's a pretty insightful kid He knows how much you're hurting Even when you try to hide it from him Instead of trying to be strong Maybe the best thing you can do Is show him that Bello 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 Quindi anche qui non c'è nient'altro ragazzi Usciamo da qui E adesso vi porto subito Da qualcuno Allora ragazzi Io mi sento pronto Per confrontarmi con Mac Lei mi dice Devo essere sicuro Che non ho niente da fare Però se tu guardi gli obiettivi Non c'è niente da fare Le cose da fare È affrontare Mac E adesso è il momento Di affrontarlo Perché sappiamo benissimo Come farlo Dai parliamo Sì Vai Parliamo dai Sono pronta Sono pronta Anche se non mi sembri Tanto po' Si sta spaventando Che belle mani Corriamo da lui Tutti la stanno guardando Ma quella lì è L'amica Quella dell'uccello Si sente proprio guardata Osservata da tutti Come aveva detto il fratello All'inizio Nel primo video ragazzi Si sente osservata Anche da quelle Vediamo Eh l'aveva detto Suo fratello All'inizio Vediamo Vediamo E si è proprio brutta Sta situazione Perché tutti credono Che sia stato lui Oddio Chi è questa qua Questa è la ragazza È quello che sta pensando lei Fa la farsa Borghese La farsa brava Quanto è brutto Avere una vita così Essere circondati Guardate Uno si è Il cappiacollo Perchè? Hai fatto uno sbaglio Eri geloso La Typhon Ti fa pressione Per vendetta Hai fatto uno sbaglio Quindi chi è? Per vendetta Eri geloso La Typhon Ti fa pressione La Typhon Anche tu sei colpevole Non prenderti la colpa Eh cosa facciamo ragazzi Anche tu sei colpevole Non prenderti la colpa Non prenderti la colpa Dai Oddio Oddio Quindi sono stati loro E non lo so La situazione è molto brutta Non dirla a me Ma si calmiamolo Dai Vai via Tranquillizziamolo Dai Tranquillizziamolo Perchè io Tranquillizzo Anche i colpevoli Non so voi Cosa avete fatto Ragazzi Cosa farete Quando giocherete Il gioco Fatemelo sapere Qui sotto Nei commenti E ditemi Cosa succede Ma io Sceglierò Tranquillizza Mac Lo so anche io ragazzi Sì Un po' troppe canne ti fai ragazzo Oh che bello Che lui si è rilassato Perfetto Adesso La verità un po' la sappiamo Il Typhon Ha fatto uccidere A lui A Gabe Ma perchè lo ha fatto uccidere Sta guardando il suo cellulare Questo gioco è bellissimo Perchè Essendo molto dialogo Tu puoi commentare Con chi vuole parlare? Con Steph? Ok Non ha detto Con chi vuole parlare Questo è molto bello Perchè l'abbiamo visto Anche nel video precedente Quando sono andati Alla miniera E c'è stato Questa inquadratura Dal basso Verso l'alto Si vedevano gli alberi L'inquadratura uguale Ci fa capire Che siamo nello stesso scenario O meglio Nello stesso luogo Ora questo si può Suicidare pure lui Ti prego No dai Almeno tu no Basta Basta con queste morti Non voglio finire il video Con un'altra morte Finiamo il video Con una bella nota Con una nota bella Cosa? Almeno Typhon Almeno Mac Alex Mac ha fatto la chiamata Oddio Lui sa la verità Proprio si Really 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 dead Cosa succederà? Quindi? Entra nel suo corpo Dai Tipo l'esorcista Oh la peppa Oh la peppa Oh la peppa La peppa La peppa Qualcuno sta arrivando Un mostro di Silent Hill La roccia nel nulla Cosa succederà? Lei? Mi dispiace Ma è proprio così È colpa della Typhon Hai salvato Ethan Mi hai salvata Mi hai salvata Dai Vero È la verità Ti prego non ti buttare dal No Proprio Lo potevi saperlo Nessuno di noi è inutile Sei più coraggioso di me Eh Sei più coraggioso di me No Non glielo dico Nessuno di noi è inutile Non potevi saperlo Nessuno di noi è inutile No Non potevi saperlo Non darti le colpe Non fare un gesto malsano Non in questo video Questo video deve finire bene Devi perdonarti Gabe ti perdonerebbe Ti perdono Gabe ti perdonerebbe No dai Che dire Oh mi hai ucciso Ma ti perdono No devi perdonarti Una bellissima Frase Eh Darsi delle colpe Quando succedono Delle cose brutte È una cosa sbagliatissima Però Siamo tutti Tutti dentro a questa situazione Ah Una bella musichetta Finalmente Oh Hold on There's a guy in a gorilla suit Does he also jump off of the cliff and into the pool No No He chases a guy in a banana suit That guy jumps off the cliff and into the pool I'm sorry This is a Mexican restaurant Eh Nominally The food is uh Terrible But it's Gabe's favorite place I tell you He's the oldest 12 year old I know Can I ask you something? Mi vuoi baciare? Sei innamorata di me? Non possiamo dirle del nostro Superpotere Non possiamo dirlo Dobbiamo tacerlo Se c'è questa scelta Non possiamo dirlo C'è qualcosa Che devi sapere E' facile E' più facile Di mostrare Che di spiegare Non devi farlo Perché secondo me Lui ha qualcosa a che fare Con questa situazione Meglio che non lo sa Sì mi Fido di te Che faccia Pensa a qualcosa Che ti fa infuriare Pensa a qualcosa Di triste Pensa a qualcosa Di spaventoso No Pensa a qualcosa Di spaventoso Non devi dirlo Devi solo pensarlo Ha una bella barba Anche lui Nel Colorado Hanno belle barbe Non ce la fa Mag Mag Typhon All of it You're afraid You won't know How to handle it Without Gabe Never knew anyone So good at getting Into and out of trouble Oh man This one time Si sta ricordando le cose belle I pensieri positivi Sono una cosa bellissima Ragazzi Dovremmo avere tutti noi Pensieri positivi Io non riesco Io penso sempre cose negative Forse perché guardo Gioco a videogiochi Soltanto negativi Ma ragazzi avete visto Era diventata strana Cosa si sta ricordando Come una droga Adesso sto ridendo Pure io Adesso sto ridendo pure io Ah con Cos'è Vediamo vediamo How deep do you think Deeper than that The Royal Canadian Mounted Police Can spot a goose grave At a hundred paces The Mounties Oh come on man I'm sorry I'm sorry How long were you gonna Let me dig I wasn't gonna stop Non l'ho capita Ma mi fa ridere Mi posso muovere Questa qua dai Questa sembra una paperetta Gabe Goose I see It's not moving It's not moving Gabe No Hai ucciso l'ochetta Stavano guidando in strada Questa è bruttina Come cosa Come ricordo felice Secondo me Lo toglierei Comunque Tra virgolette Vediamo cos'è questa Un buco Erbucone Sangue Eh sì la regina del commonwealth Che faremo Che faremo So So Did you Finish Burring the goose Or not Ok Also Property of the crown Really Oh ma che ridi E' una goose E' importante Loca Come Sono una specie di supereroina Non sono una persona Non sono una persona normale Eh vabbè Sono una specie di supereroina Dai So I guess I Have this Power I can See other People's emotions They show up Like an aura And if I get too close I I feel what they feel As if I was feeling it myself And when I focus I can even Understand why They're feeling it Secondo me Hai fatto un piccolo errore That's what you just did With With me Shish Some kind of power No kidding No Eri proprio seria It's It's only ever been The bad emotions Before But That That was Pure joy Who else knows Nessuno E perché lo dice a lui Tu non lo conosci bene Sto biondino qui Ma nell'episodio precedente Era così biondo I know Mack's terrified of Typhon He reported Gabe's call And they ignored it Now they're putting pressure on him To toe the line Okay but Why? I don't know yet Someone made the decision To let the blast go off Seems like finding out who Would be a good start So You're going after Typhon You'll need help You don't have to Just like me now Okay Allora lui è bravo Stretta di mano Ba Stretta di mano Abbraccio Abbraccio Dai Noi ci piace abbracciare Comunque a me mi piacciono le donne Certo dire un segreto così importante A una persona che conosci da poco tempo E lui non reagisce nemmeno così stranamente Ecco Bah Siamo ritornati qui Alla casa Allora chiamiamo del record trader Al negozio di dischi Ciao Ciao Io ho paura che succeda qualcosa a lei Perché adesso è lei da sola La notte Questa sembra la canzone di Gov Ragazzi Tra l'altro ho uscito il nuovo album Stavo per uscire il nuovo album Di Gov Si titola tipico E non c'è nessuno anche qui al negozio E sta proprio male All'Alzheimer Ho la senilità È brutto avere questa malattia E non c'è nessuno E non c'è nessuno un giorno con lui ha cambiato la mia vita ho detto non sapevo se ero qui e invece ha detto che il casa non è qualcosa che tu trovi cioè è qualcosa che tu stai wow è qualcosa che si costruisce sono pienamente d'accordo è verissimo la casa è quella che costruisci non in senso materialistico ma in senso romantico metaforico allegorico ti voglio anche io bene Gabe questo è uno del ragazzo migliore del mondo simpatico, bravo aveva degli amici che lo proteggevano più o meno e tutti hanno quest'aura di felicità quindi tranne lei guardate lì sulla sinistra l'unica lei è arrabbiata spaventata triste dobbiamo andare da lei ho anche un trofeo una cosa che si costruisce c'è una casa ed è così che finisce il secondo capitolo di Life is Strange True Colors questa volta voglio fermarmi proprio nel momento in cui finisce il capitolo perché lo trovo una cosa molto bella da fare importante così almeno ci riposiamo un attimino io gioco da più di tre ore come ho detto il gioco si era bloccato dovevo farlo da capo delle cose pazzesche che succedono non so se le notate qui durante il gameplay fatemi sapere quindi cosa ne pensate cosa ne pensate delle scelte che ho fatto io sono abbastanza contento e credo di aver fatto bene mi sento molto felice ecco di quello che ho fatto con Alex abbiamo scoperto delle cose importantissime proprio nel finale un piccolo cliffhanger abbiamo capito che quella donna lì di cui non mi ricordo adesso il nome ha a che fare con delle paure strane che riguardano me che la sua morte non vedo l'ora di scoprire insieme a voi cosa succederà quindi cliccate il pollice in alto se questo video vi è piaciuto iscrivetevi al canale attivate la campanella delle notifiche così non vi perdete il prossimo gameplay qui su Isola delle Rose TV vi prego ho bisogno del vostro aiuto condividete il video ovunque online dobbiamo farlo conoscere io ho visto che i miei video sono gli unici con una thumbnail bellissima con la mia faccia dei effetti stupendi dobbiamo valorizzare il canale ho bisogno quindi di voi aiutatemi e basta ci sentiamo quindi presto per il prossimo video Govinda vi saluta pensa giocando Govinda vi saluta